ben ritrovati di nuovo su review you vado a recensire questa amaca acquistata direttamente su amazon vi lascio il link in descrizione ho pensato di testarla direttamente in questo ambiente boschivo allora arrivo all'interno di questo sacchetto di plastica c'è la custodia di stoffa niente male questa è la marca abbiamo un etichetta dove vi indico che si può lavare a mano quindi buono comodo anche l'apertura andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è all'interno allora abbiamo direttamente la custodia attaccata cucita alla mac quindi si trasforma se non erro in una taschetta dove mettere eventualmente lo smartphone a bottiglietta d'acqua la cinghia trovate sul sito comunque tutte le indicazioni riguardo alla lunghezza eccetera comunque come cinghia ho già guardato è rinforzata andremo comunque a provarla staccando dagli alberi vedremo se terrà il peso se non erro c'è scritto fino a 300 kg di peso quindi non male come vedete comunque rinforzata con tre cuciture e poi ci sono tre cuciture rinforzate in orizzontale abbiamo due moschettoni belli solidi e poi appunto si dispiega materiale dovrebbe essere materiale usato anche per i paracadute così c'era scritto c'è anche un foglietto illustrativo all'interno dove ci dice un po come andare a posizionarla come vedete questo è il nodo che si deve fare e vi dice tutti i dettagli comunque nel link che vi lascio in descrizione potrete trovare tutto il resto ecco qua in italiano devo dire che per il costo parliamo di 17 euro poi non so se varia il prezzo ma 17 euro il prezzo d'acquisto ne vale la pena allora vado a avvolgere l'albero e con questa cinghia si va a inserire in uno di questi passanti quindi questo è il primo step ok questo è il primo passaggio come vedete ha fatto passare e quindi qua ci siamo adesso l'altro albero allora ho cambiato albero perché l'altro era troppo largo quindi l'ho messo su questo praticamente fate dei giri se a dipendenza della distanza degli alberi comunque fino a tre metri potete posizionarla il moschettone bello rigido resistente anche su questo albero ho messo l'altra corda però resistente quindi adesso vado attaccare l'amaca ok ho passato il moschettone qua questi devono entrare dentro l'amaca è posizionata questa è la taschina e qua ho messo l'altro moschettone quindi come vedete è veramente ben posizionata e adesso non ci resta altro che salire ovviamente state attenti agli oggetti appuntiti anche ai rametti perché sennò c'era un attimo che si buca ecco la prova che regge 60 kg è veramente comoda anche d'inverno di attunno basta mettere una coperta e dondola tranquillamente anche piacevole per questa recensione tutto ci vediamo alla prossima video link in descrizione